691 candidati, 885 liste per 204 comuni. Questi numeri della Toscana al voto per l'amministrativa è 2014 del 25 maggio e si voterà dalle 7 alle 23. I dati sono stati tracciati dal Lanci Toscana in vista dell'apertura delle urne. 2 milioni e 400 mila abitanti, 65,6% della popolazione toscana, è chiamata al voto e a scegliere il primo cittadino. I candidati sono 12 in più rispetto al 2009, sono invece meno i comuni al voto perché ci sono state le fusioni e per questo il numero dei comuni toscani è passato da 287 a 280. È in crescita la percentuale delle candidate a sindaco, 142 donne, il 20,5% sul totale di 691 candidati. Sono invece 549 gli uomini, pari al 79,5%. Si voterà in tre capoluoghi, Firenze, Prato e Livorno, tra le città più popolose della regione, mentre la provincia in cui è chiamato al voto il maggior numero di comuni è Firenze, con 37, seguita da Siena, Rezzo, Pisa, Lucca, Grosseto, Livorno, Pistoia, Massa, Carrara e Prato, con 5 comuni. Sempre secondo i dati ANCI, delle 210 amministrazioni uscenti, 172 sono di centro-sinistra, 31 di centro-destra, mentre 7 sono liste civiche. È semplice invece scegliere il primo cittadino nei 5 comuni toscani dove concorreranno una sola lista e un solo candidato. A Camporgiano, Minucciano, San Romano in Garfagnana, in provincia di Lucca, Comano a Massa e Gaiole in Chianti, Siena. In base alla riforma del ministro del Rio, gli assessori toscani che potranno essere nominati in questa tornata elettorale saranno 777, 417 in meno rispetto agli anni precedenti e i consiglieri comunali passeranno da 3.388 a 2.672.